140 euro a tonnellata per inviare la spazzatura della Sicilia all'estero. Parte il conto alla rovescia a Palazzo d'Orlean e all'assessorato e ai rifiuti per lo smaltimento fuori dall'isola. Al momento, come riporta Repubblica Palermo, a raccogliere l'immondizia dei siciliani, sembra saranno la Bulgaria, il Portogallo e la Romania. I costi, che da qui a novembre dovrebbero ammontare a circa 14 milioni di euro, peseranno sui comuni che entro agosto invieranno fuori dalla regione almeno 160.000 tonnellate di spazzatura. Tra le idee avanzate per ridurre la quantità dei rifiuti e i conseguenti costi, quella di inviare all'estero soltanto il secco, molto ricercato per produrre energia e di creare un'agenzia unica dei rifiuti con Roma. Intanto, dopo la chiusura della discarica di Siculiana, c'è chi è costretto a percorrere oltre 700 chilometri giornalieri per depositare l'immondizia in discarica, come il comune di Marsala, i cui compattatori viaggiano per tutta la Sicilia. A Mazzara del Vallo, da circa due giorni la raccolta è ferma, in attesa di poter conferire i rifiuti già accumulati nella discarica di Trapani. Una situazione denunciata al presidente della regione, Rosario Crocetta, dal sindaco Nicola Cristaldi, il quale afferma di aver superato ogni limite di tollerabilità.